anche oggi si riducono per fortuna i letti occupati in terapia intensiva e in tre quarti delle regioni italiane siamo fuori dalla soglia di rischio se andrà avanti così ancora per qualche giorno i ministri della lega avranno l'onore e l'onere di portare in consiglio dei ministri la richiesta di riaprire al chiuso e all'aperto di giorno e di sera così matteo salvini torna a parlare di riaperture ponendo come primo obiettivo della lega al governo la revoca del coprifuoco stop al coprifuoco riaperture risarcimenti per le attività chiuse dalle restrizioni anti covid e nessun inasprimento fiscale sarebbero questi gli obiettivi della lega al governo ribaditi oggi nell'incontro tra matteo salvini e ministri viceministro capigruppo e sottosegretari del carroccio la lega è leale e non intende mollare la presa su temi irrinunciabili ha sottolineato salvini che ha quindi raccontato abbiamo parlato delle nostre priorità che sono il blocco delle cartelle esattoriali e soprattutto le riaperture il ritorno alla vita il ritorno al lavoro e alle libertà la cancellazione del coprifuoco a partire dalla prossima settimana potrebbero arrivare i primi cambiamenti per quanto riguarda il coprifuoco saranno infatti passati 14 giorni dall'entrata in vigore del decreto riaperture cioè il tempo minimo per valutare l'impatto dell'allentamento delle restrizioni da metà maggio il governo potrebbe quindi decidere di rivedere alcune misure di contenimento del virus in primis il coprifuoco come aveva spiegato nei giorni scorsi anche la ministra per gli affari regionali maria stella gelimini questo si potrebbe spostare in un primo momento alle 23 per poi revocarlo del tutto con il passare delle settimane